Un accordo decisamente importante perché la sicurezza informatica è una sicurezza decisamente rilevante per le nostre imprese. Noi ci si accorge del valore della sicurezza quando perdiamo questa condizione di sicurezza e ci troviamo con delle sfiltrazioni di dati oppure con l'impossibilità di usare i nostri server. La sicurezza informatica ci siamo resi conto soltanto dopo con il valore del dato quanto sia importante e abbiamo connesso la sicurezza informatica, l'ingresso, l'hacker e l'abbiamo connessa alla sicurezza del business. Per cui avere una sfiltrazione di dati, dal listino, progetti, disegni, cose del genere ha dei significati enormi. La connessione tra cyber security e sicurezza in termini general generici, ovvero costruire dei progetti di sistema informativo che tengono conto della sicurezza, è la chiave fondamentale. Ecco perché abbiamo parlato anche di formazione, di social behavior. Ad esempio, se lei davanti alla porta della sua macchina trova una bellissima chiavetta USB, le viene spontaneo inserirla nel suo PC. Potrebbe essere l'inizio della fine rispetto a questa azione maldestra. a questa azione maldestra.